picciotti di sicilia tutto tondo siamo alla festa di santa fortunata a paucina vedete il video perché vi mostreremo una delle feste più belle di tutta la sicilia è molto sentita questa festa picciotti guardate qua confusione che c'è dentro alla chiesa c'è la santa ora ve la faremo vedere allora prima di iniziare la processione cosa si fa si prende il santino la bambaggia amore ascoltami ora tu che devi fare devi salire nella passerella io ti seguo la devi appoggiare sul vetro dove c'è la santa vedi come fanno questi signori e poi questo te lo devi conservare sei pronta via allora ecco qua la santa ecco micaela che sta appoggiando la bambaggia perfetto amore ora questo tu lo devi conservare allora picciotti questa è la fila che c'è fuori che aspetta il turno per avvicinarsi come abbiamo fatto noi alla santa ecco qua picciotti questo è il tesoro della santa guardate queste sono tutte le donazioni dei fedeli e allora questi invece sono i portatori della vara di santa fortunata eccoli qua li stanno preparando per far uscire la santa e ci siamo quasi ecco stanno preparando adesso la vara della santa e con questi poi la porteranno in giro per il paese è uscita la santa è uscita la santa è uscita E' partita la proiezione! Allora, mentre il parroco dice il rosario, ci siamo messi qui perché aspettiamo la volata degli angeli. Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta per le donne e benedetta il frutto del tuo seno Gesù. Che confusione che c'è! Sei pronta? Non ti farei schiacciare! Sei in diretta! Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te. Eccoli qua, i bambini stanno arrivando. Soccorri i miseri e i vacillanti, oh fortunata, forte e beata, pensaci tu. Le mamme piangono, i figli morti, le spose temono i tempi brutti. Piangono i pargoli, sospirano tutti. Devoto popolo, in alte i cuori, abbi fiducia e dei secoli, a cui fortunata tutta... Ecco, adesso li ritirano nel falcone. Allora, picciotta, adesso stanno passando tutte le figure che rappresentano la vita di Santa Fortunata. Ora noi qualcuna ve la faremo vedere. Qua ce ne sono alcune. Ora aspettiamo le altre. E continuiamo con le figure. Santa Fortunata in catene. Santa Fortunata in prigione. Santa Fortunata in prigione, eccola qui. Qui invece, quando vengono ritrovate, le sue reliquie, qui a Baucino. Ecco, picciotti, siamo pronti per la seconda volata degli angeli. Sono calando le bambine sopra la vara e si parte. A me piangono i figli morti. Le spose temono i tempi brutti. Piangono i pargoli, sospirano tutti. Devoto popolo in alto i cuori, abbi fiducia nel re dei secoli, a cui fortunata tutta si chiede. Gesù altissimo che tutto fece. A noi figli di sé chiedete il nome mio. Conviva fece a Dio che tutto vi darà. Vergine bella, vergine amorosa. Allora, picciotti sono, l'uno e un quarto, siamo arrivati davanti alla compraternita. Ecco un po' di figli, ecco un po' di lavoro, la macchia di Maricerno a poste. Ecco un po' di lavoro, la macchia di Maricerno a poste. Ecco un po' di lavoro, la macchia di Maricerno a poste. Ecco un po' di lavoro, la macchia di Maricerno a poste. E come in tutte le feste di paese non può mancare la banda musicale, eccola qui. Allora, è lunedì, siamo distrutti, ma siamo poi davanti alla chiesa per aspettare l'arrivo della torta, la processione stracchinetta. Allora, guardate, la chiesa è questa, che è qua, ma dovrà tutto da notare la magliettina che ho io con lo stemma della compraternita. E' arrivata la santa, è arrivata davanti alla chiesa, pronta per entrare. Ed è entrata la santa, ce l'abbiamo fatta. Abbiamo terminato, bravi stili a tutti, bravi stili a tutti. Siamo molto stanchi, ma sicuramente loro molto, molto di più. Allora, picciotti, sono le tue di notte, la processione è finita, siamo molto stanchi. Complimenti a tutta l'organizzazione di Pocina perché è stata una festa veramente meravigliosa. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie ragazzi, seguiteci. Alla prossima, vi raccomando, se avete tempo, domani ancora c'è un'altra processione. Ciao picciotti, un bacio. Grazie.